Comau Robotica è l'unico costruttore italiano di robot antropomorfi, abbiamo una gamma molto ampia che va da 6 kg di portata fino a 650 kg, le applicazioni sono ovviamente quasi infinite quelle dei robot antropomorfi, quindi cerchiamo di collaborare con tutte le aziende più importanti in Italia e nel mondo che ci aiutano a installare i nostri robot presso i più grossi clienti finali. Il settore principale della robotica è ovviamente l'automotive, dove anche noi facciamo indicativamente il 60-70% della nostra produzione, ovviamente però siamo un po' in tutti i settori produttivi, il vetro, il legno, la plastica, l'asserimento macchine utensili, il medicale, la lamiera ovviamente, quindi tutto quello che è la saldatura, la piegatura a lamiera e vi rispetto. Qui presentiamo l'ultimo nato di Comau che è il Racer, un robot con due diversi sbracci, quindi 1.400 di sbraccio, il robot più grande, 999 questo che è proprio l'ultimo nato, entrambi portano 7 kg sulla flangia, sul polso, sono robot nati per una manipolazione particolarmente veloce, infatti la peculiarità di questi robot è quello proprio di essere molto molto rapidi nell'esecuzione del movimento. Grazie.